Ciao a tutti ragazzi, siete tornati con un nuovo video di Matteo Grancani E Marco Junior Ecco, allora, oggi siamo su Clash Royale, come vedete Faremo un po' di battaglie 2v2 E Matteo è in arena o in Clash Royale In arena 12 La mia leggendaria preferita La mia leggendaria preferita Qua sento La Marco Junior la torre Infatti Vabbè dai, Gran Cavaliere Con Adesso ce lo vanno Non fa quello Allora, ragazzi Allora, ragazzi Morto Morto La torre ce l'avevo salvo Ma dunque, aspetta un'altra Questa ti ho potenzione Chisma di Avvang клai Allora, io conosci La trame La torre ce l'aveve Questa Come sta maps Viovi Mi Questa La vista le La And Fu stress il gran cavaliere il cavaliere e poi la torre 17 Sì, è lì! No, non è più un montacuerco! E quella torre a 17! Qua! Qua schiera franchetta! Vabbè! No! No! Ok! Vabbè! Sì! No! 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2 Ok, ok Ok, ok Ok nooo vai 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 no no grazie grazie vai vai comunque se siete interessati questo mio mazzo vi lascio un minuto per memorizzarlo dopo vi dico il minuto glielo faccio vedere io ok glielo faccio vedere io non preoccuparti glielo faccio vedere questo è il fumazzo dopo se lo cambia dopo se ci viene vai 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 ok qui qui si ma non è qui 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 vabbè raga adesso facciamoci un amichevole una battaglia 1v1 vediamo dai si proviamo dai si proviamo dai fai l'amichevole Ok, ok, non guardare uno schermo 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 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ragazzi per questo video ci vediamo